Uno dei temi più affascinanti, più intriganti della filosofia, ma anche uno di quelli che porta la filosofia ad essere considerata una disciplina che poi diventa eccessivamente astratta, quindi anche inutile sotto certi punti di vista, secondo la visione di molti, è il tema dell'assenza. Perché finché la filosofia si basa sullo studio, sull'analisi, sull'interpretazione di fenomeni che sono presenti, presenti culturalmente o presenti materialmente, allora la filosofia diventa una disciplina comprensibile. Quando invece la filosofia si spinge su terreni inesplorati, che sono il terreno dell'assenza come forma di presenza, allora la filosofia può diventare una disciplina che sembra che vada contro se stessa, che giochi sull'erudizione e sull'arte oratoria di chi la narra, ma che perda di fatto consistenza. Non è così. Il tema dell'assenza è probabilmente il tema più significativo della storia della filosofia e parte da lontano, perché ovviamente già il periodo cosmologico, il periodo in cui i lionici di Mileto, Pitagora, Eraclito, Parmenide, vanno a cercare l'archè del mondo. Vuol dire che c'è un principio che esiste, ma in quel momento tutto il resto era inesistente. E nessuno ha mai parlato come archè l'uomo. L'uomo non è l'archè dell'universo, quindi l'assenza dell'uomo nel cosmo è un periodo che sicuramente c'è stato, il periodo pre-cosmologico, il periodo pre-archè. Quindi dal momento che esiste un principio vuol dire che tutto ciò che ora c'è e che non è principio non c'era, quindi era assente. Ma questo è un tema di assenza ampiamente comprensibile perché è un'assenza legata al crono, legata al tempo, per cui uno non c'è semplicemente perché non c'era, non era nato, non si era sviluppato quel tipo di idea, poi quel tipo di idea diventa presente. Il primo filosofo che mette in discussione proprio la presenza come noi siamo abituati a viverla è Parmenide, perché quando Parmenide ti dice che l'essere è unico, quindi ce n'è uno solo, finito, eterno, imperituro, che non può esistere il non essere, allora chi sono io? Io sono un non essere, quindi non esisto, quindi no, ci può essere l'interpretazione di me, in realtà Parmenide vuol dire altre cose, però si può anche derubricare a questo. E' lo stesso Eraclito che va contro Parmenide, che però ci dice che non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, e quindi io non sono quello che ha iniziato questo video, perché sono già diventato un'altra cosa, quindi io sono differito a chi, non a voi che guardate il video dopo, ma a me stesso mentre sto parlando. E sarà il tema poi ripreso dalla postmodernità. Plotino, durante il periodo della filosofia post-anno zero, ci dice che per arrivare a una definizione bisogna partire dalla negazione. Noi non siamo in grado di dire cosa c'è, ma siamo in grado di dire cosa una cosa non è. Quindi se non è quello, non è quello, non è quello, rimane l'essenza, ma se non è, è assente a quel tipo di definizione. Ed essendo l'uno, quello che poi ci ricomprende tutti, è l'unità, vuol dire che il tema dell'assenza, scusate gioco di parole, è ben presente, come poi nella filosofia cristiana, in qualche modo, perché l'assenza o la presenza di Dio e il fatto che Gesù è sicuramente presente al mondo, ma a un certo punto si sente abbandonato da chi doveva essere presente e lui percepisce come assente. E poi con il sacrificio finale c'è il ritorno, ma un ritorno che diventa più una dimensione metafisica che fisica. E la disputa medievale degli universali è anche un tema su presenza-assenza nel mondo. C'è l'amore? L'amore c'è. Bene, cos'è? È un nominalismo o è un fisicalismo? Cioè un fatto che esiste, è un realismo perché Dio lo ha ammesso? O siamo noi a dare, attribuire liberamente ad alcuni fenomeni, ad alcune determinazioni, il nome di amore, ma che poi prende un carattere o relativo o strutturato, quindi esiste come struttura, dirà Foucault, ma non come esistenza in sé. Il tema è un tema che poi, vado molto veloce, nell'Ottocento porta a sperimentare due tipi di alienazione che sono l'alienazione hegeliana, che è l'alienazione culturale. Cioè quando una cultura è alienata vuol dire che una cultura non ha una presenza spirituale e quindi è una cultura assente. Però qui c'è un tema di ricomprensione, di ottimismo, perché poi tutte le culture saranno ricomprese arrivando all'ospedità assoluto. In Marx il tema dell'assenza è il tema dello sfruttamento. Nel momento che il proletario ha soltanto il proprio corpo, non ha altro a disposizione, ha la propria forza lavoro e la propria forza lavoro non la usa per sé stesso, non la usa per la comunità, ma la usa per un padrone che lo sfrutta, in quel momento noi costringiamo l'operaio alla nientificazione. L'operaio e il proletario non sono esistenti, sono assenti e quindi ogni forma di umiliazione cosciente dell'esistenza, pensiamo alle violenze sessuali, ad altre forme di soppruso, diventano una negazione dell'umanità dell'altro. Quindi vuol dire che in quel momento io sto leggendo l'esistenza dell'altro come assente, perché se la dovessi leggere come presente non avrei la forza di compiere determinati atti di violenza. Quindi io vedo l'oggetto, ma non vedo più il soggetto, che poi è quello che subisce questo tipo di situazione. Il tema è un tema che porta a tante conclusioni diverse, a tante analisi, però andando veloce, anche per priorità di tempo, andiamo a vedere cosa succede nel Novecento e con la post-modernità. Derrida, filosofo della decostruzione, ci dice appunto che il pensiero occidentale ha costruito tutta una serie di apparati metafisici per decretare una presenza non avendo il coraggio di vivere nell'assenza. Ma in realtà il logocentrismo e il fonocentrismo non hanno dato ragione all'essere della sua esistenza, ma quello che noi vediamo, quello che noi definiamo essere, è soltanto la statua dell'essere. Cioè non è l'essere, ma è quella dimensione immobile che noi vogliamo dare, perché nel momento che esiste la mobilità dell'essere, l'essere non esiste più e quindi è presente soltanto la sua assenza. Derrida parla proprio di questo riferimento, perché dal momento che penso una cosa, dal momento che la dico, quindi pensiero, voce, il fenomeno che vedo, il pensiero che deriva dal fenomeno che vedo, la voce che esce, la traccia che viene scritta, hanno forme di differimento. Cioè la differenza, la differenza non è semplicemente tra io che parlo e chi ascolta, ma la differenza è anche all'interno del soggetto stesso che in ogni attimo scopre la sua assenza ogni volta che tenta una decostruzione. Questo tema dell'assenza è il tema che poi viene ripreso dall'Evinas e in qualche modo si collega anche a un'opera straordinaria, La banalità del male di Anna Arendt, perché in totalità è infinito, l'Evinas ci dice che quando esiste la totalità, la massa, le persone che io vedo, i prigionieri dei campi di sterminio, non esiste l'individuo, non vedo l'individuo, non vedo il suo sguardo, quindi mi rivolgo a una totalità dove c'è la completa assenza dell'umanità. Nel momento che passo dall'esistenza generica all'esistente YA, io vedo lo sguardo di qualcun altro che mi chiede aiuto e io mi rendo conto che la mia esistenza non è decretata dal mio sentirmi nel mondo, ma dall'altro che mi guarda, perché l'altro che mi guarda decreta il mio esistere. Infatti nel momento che io perdo lo sguardo dell'altro e finisco per esempio in una notte di insonnia, nella notte di insonnia il mormorio del silenzio, la densità del vuoto, si impadroniscono dell'animo umano e quindi vanno a decretare una forma di assenza insostenibile, insostenibile, Kundera appunto ci parlerà poi in forma letteraria dell'insostenibile leggerezza dell'essere, che potrebbe essere anche l'insostenibile presenza dell'essere. Abbiamo citato Ann Arendt perché Ann Arendt quando scrive la banalità del male, seguendo il processo Eichmann in Israele, si rende conto che in Eichmann non è presente il male, è assente il senso d'umanità perché vive in quella dimensione totalitaria che è quella che appunto ha evidenziato l'Evinas. Foucault arriva poi al punto estremo di questa non presenza che è il fatto della struttura. Io che sono ora, per chi guarda, uno che sta parlando di filosofia, quindi la struttura è quella, ma sono anche molte altre cose qui, Randello, però io le altre cose le devo tutte strutturare, cioè quindi devo autodefinirmi padre, marito, insegnante, cioè sono tutta una serie di definizioni, quindi non esiste più un uomo, ma esiste solo la struttura alla quale lui cerca di far parte, e quindi questo tipo di struttura consente al biopotere di controllare il corpo, di controllare le emozioni, di controllare il sentimento, di dire cosa è giusto che si possa provare e cosa non è giusto che si possa provare, quindi avviene proprio questo tema della completa assenza a noi stessi e è un derivato ovviamente del pensiero debole che nel rischio primario che ha quello di non avere una direzione, quello di essere semplicemente la dimostrazione dell'impossibilità di dar credito alle metanarrazioni metafisiche che hanno caratterizzato l'Occidente, però in questa sua dimensione di imprinting, diciamo all'agliotare, di più proprio destrutturante e basta, viene a mancare quella direzione, cioè che possa portarmi poi a riconnettermi col mondo e questo è un tentativo che farà Gianni Vattimo di andare a impostare un pensiero debole che però possa andare in qualche modo a decretare anche una presenza fragile dell'essere nel mondo, cosa che invece per pensatori come Derrida, Levinas, eccetera, era molto più complicata, ricordiamoci che Derrida ci parla appunto del gioco dei dadi, io sono qui a fare un video di filosofia perché sono appassionato di filosofia, come è capitato il gioco dei dadi, a un certo punto qualcuno mi ha detto il termine, mi è piaciuto, mi sono iscritto all'università, però potresti essere qui o da un'altra parte, quindi non è che è presente un qualcosa, perché come dice Foucault, è presente semplicemente questa struttura che ti darà un riconoscimento perché il video potrà essere visto, quindi se poi andiamo a unire a questo l'idea della società liquida di Bauman, del fatto che appunto abbiamo perso anche quei contatti che vanno a segnare la presenza materiale, ci rendiamo conto di come l'assenza sia molto più presente a noi stessi, qui non si tratta di pensare all'assenza come qualcosa di immateriale, e quindi antimaterialistico e un ritorno all'idealismo, no no, qui l'assenza è un qualcosa che è presente, ogni uomo vive nell'atmosfera dell'insonnia, del vuoto, del mormorio del silenzio, del dramma individuale, quando non ha una possibilità di contatto, vive proprio in modo decretato la propria assenza e quindi è un tema che non è che poi ha una soluzione, non c'è un cosa si deve fare, però è un tema di riflessione molto interessante e essendo marzo e quindi avvicinandoci all'esame di Stato, una frase che parte da Derrida, una frase che parte da Hegel, una frase che parte da Nischer, può sportare come suggerimento l'alunno, l'alunno o l'alunno anche a cercare di andare a costruire un impianto filosofico sull'assenza e poi collegarlo ad altre materie e non riesco a concentrarmi su quelle scientifiche, però potrebbe essere su Pirandello nella letteratura, Joyce nella letteratura inglese, Manzoni il pittore della storia dell'arte, cioè andare a vedere quali sono i temi dell'assenza presenti nel pensiero artistico, culturale, umanistico, filosofico del mondo occidentale.